Valdichiana sta per tornare il programma più cool dell'estate, Giardino Valdichiana. Stessa formula, location diversa. Location diversa perché ci troviamo al Golf Club Valdichiana. Abbiamo scelto questo bellissimo posto per la nostra nuova edizione di Giardino Valdichiana. Quale posto migliore per una trasmissione che si chiama Giardino Valdichiana è essere in un posto che è ben più di un giardino, un campo da golf. Faremo anche in occasione della trasmissione Giardino Valdichiana, tutti i venerdì dell'estate 2018, un aperitivo che servirà a far conoscere questa location e a far conoscere questo bellissimo sport a chi ancora non ha avuto il coraggio di avvicinarsi. E allora l'appuntamento è per venerdì 15 giugno dalle ore 18 per tutti i venerdì qua al Golf Club Valdichiana e ovviamente in diretta sulla nostra pagina Facebook La Valdichiana. Mi raccomando non mancate! Grazie!